a questa musica sicuramente la riconoscete o ok sei pronta ad iniziare è da vecchio tempo che manchi sul canale tu vuoi continuare a mangiare amore devi fare devi solo fare un giochino puoi davvero mangiare non ti dico niente ma oggi devi fare un giochino un giochino molto particolare siamo qui sulla home page del classico gioco che ormai sta spopolando dappertutto di clash royale ok questo è un gioco a carte a te non ti piacerà sicuro al cento per cento inizia la parola gioco particolari aggiornamenti negli ultimi giorni hanno impostato qualche cosa e probabilmente non si capisce più niente a salire monte cinghiale 3.000 coppe più arena leggendaria 3.800 coppia poi c'è sfidante 1 maestro 2 5.200 coppia maestro 3 campione campione grandioso 6.100 campione definitivo 6.400 coppia e penso che qualcuno ci sta già campione definitivo 6.400 coppie guarda quante ce n'ho io adesso allora per questo oggi siamo qui adesso avrai la possibilità di vedere innanzitutto l'offerta speciale baule leggendario 500 non ce l'abbiamo non ci può fare ci abbiamo solo 79 gemme 79 gemme si fa una collanina allora oggi cosa facciamo siccome ho questo baule da un pochettino di tempo ma sono in arena 4 ho la possibilità di trovare queste carte io vorrei aspettare l'arena 5 così almeno abbiamo la cimitero che è la carta che mi interessa un pochettino più più di tutti allora adesso tu andrai ad aprire questi due il baule omaggio e il baule enorme clicca e portami fortuna questo e questo vai 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 ancora ancora fino a quando ti dico sotto con l'altro vai clic piano vai vai ancora niente vai due c'è te carte vai una due l'ultima niente sicuramente non giocherai tu ma giocherò io ma sarei tu a costruirmi il mato molti altri youtuber hanno fatto questa sfida mi piacerebbe che tu almeno partecipasi così almeno anche loro ti rivedo sul canale perché ricordiamo dai tempi di penso mirror seggi che tu non partecipi ai nostri giochi ma non ricordiamo mirror seggi anzi lo cancellerò col video io ho sbloccato la bellezza di 32 carte ok facciamo due mini giochi la prima la scegli vendato senza guardare le carte nella seconda sfida sceglierai proprio le carte nel senso mi devi dire otto numeri compresi dall'uno e 32 ok e nel secondo invece secondo mi gioco andremo proprio tu andrai a scegliere le carte quelle che ti piano ti piacciono di più io ci giocherò 11 cavolo vai dimmi un secondo numero 32 1 e 32 bene abbiamo un pecca e uno scheletro bene già benissimo vai perderò altre coppe 18 18 lo stregone 3 goblin a livello 6 24 oh il barile goblin la fulmine vai il gigante mamma mia amore poi sparami in ultimo 11 7 numeri giocati all'otto 11 22 64 38 i barbari costo medio eslizir 4.5 siamo pronti vingardium leviosa battaglia e siamo pronti a giocare prima mano si chiama yusuf gigante per contrastare pecca subito così bam i due goblin che attaccano da a fianco vai che attaccano a fianco sono tutte e due per gli edifici perfetto guarda vedi hanno attaccato il gigante da no no è abbattuto dai 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 allora vai metto il gigante dietro così almeno lui para buttiamo la dietro una barile così almeno distrugge quei quattro goblin e abbiamo buttato giù la prima torre mamma mia amore mettiamo un mago vai per dare supporto la valkyrie in difficoltà mettiamo pure gli scheletri per rinforzare stiamoci calmi recuperiamo il desiderio che ci abbiamo un altro pecca abbiamo un altro pecca in mano vai che il mago spacca tutto vai che il mago spacca tutto no non ce l'ha fatta siamo calmi perché non ci ha fatto un colpo e noi con un attacco abbiamo lasciato al massimo un altro pecca più i goblin di qua batti quel cavaliere vai e batti quel cavaliere bono bono mamma mia mamma mia mamma mia no ecco questi con mi difendono ecco la fulmine la fulmine bam abbattici sti goblin e dai 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 tutti 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 dall'altra parte il pecca sta a fare mamma mia che sta a fare il pecca quasi dimezzato un altro torre guarda il gigante che attacca un colpo è abbattuto un colpo va giù ci buttiamo pure la barile dai che un colpo va giù mamma mia amore mamma mia che fatto mamma mia un paul e d'oro mamma mia mamma mia e risaliamo buono e salvato come primo mazzo da batti il nome non si commette rinomina il mazzo via via butto vai amore compro i cristini e facciamo i video di crescero iangosta niente poi un'altra vai amore coppecca io aspetto sempre la prima mossa vai abbacci sto cavaliere con due colpi va giù è buono e lui si avvi vai tu no ma buttato giù il bank stavolta no stavolta no dai 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 risaliamo abbiamo abbiamo tempo vai vai metti dietro un mago metti dietro il mago così almeno da supporto no 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 non mi piace non mi piace più non mi piace più questa cosa no 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 vai metti rinforzati goblin ah perfetto non mi piace non mi piace non mi piace non mi piace vai butta buttate giù quella torre buttate giù quella torre buono siamoci calmi e non lasciamo buttaci giù quel coso no 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 ma buttato la prima torre ma buttato la prima torre no 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 andiamo in aiuto del pecca mi serve aiuto al pecca no niente pecca andato giù manccio ancora il gigante con i goblin dietro mamma mia faccio l'ultima partita così almeno sblocchiamo pure la la corona e tu apri la corona boh ti ha un mago qua così almeno se ne va verso sinistra chiamatemi se volete fare farvi i mazzi mamma mia questa è bellissima rispondo con i goblin rispondo con i goblin e con una fulmine pam 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 butta lì giù tutti buttali giù tutti il mini pecca non ci voleva bloccarlo abbattilo giù buttate giù quel mini pecca e mo la prossima la prossima lasciata è mia sto accumulando il isir la prossima lasciata è mia vai fregatene fregatene è un barile che mi hanno lanciato dai 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 buono uno un pecca là un mago che ci va dietro un mago che ci va dietro qua vai buttate giù quella torre mo eh un altro mini pecca un altro mini pecca non ci voleva mo non ci voleva un altro mini pecca attaccatelo da dietro bam fatto fuori buono un gigante qua lo sapete così almeno è occupato da quella parte io dovrei farcela vai 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 buttate giù quei goblin anche quest'alti possibilmente vai mago mago vai 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 che mo si lascia vai che mo si lascia con un pazzo no bloccate quella mongolfiera no no partita andata male l'ultima ma abbiamo conquistato la corona necessaria che ti permetterà di aprire il baule apri tutto si 1 2 vai ci mancano 3 vai non c'è la leggendaria non c'è niente non c'era rara c'era solo la epica un mini pecca mi accontento l'ultimo esatto andiamo a creare l'ultimo mazzo che lo facciamo qui al posto 3 bombarolo questo volano a buono te mancano 4 quale questo vai al posto delle tre tre mancano due che prima ci ha salvato la vita la lapide vai adesso onestamente vuoi che ti dia un consiglio meglio quei numeri ho paura di andare a giocare con questo mazzo una capanna goblin a sinistra così almeno cominciamo a rilasciare arcieri che possono far danno e lui mi ha messo subito mini pecca no buttare giù quel pecca ma buttare giù sul padrone oh my god tre partite ho fatto tre partite da da dio tre partite da dio fino all'ultimo combattute no lei è andata a scegliere le carte io sono andato a fargli scegliere le carte più che alta a battere quella torretta a battere quella torretta sono le coppe che mi sono rimaste qui sono stomaco mi fa male non ce la farò mai amore non ce la farò mai io sto rilasciando mostri così perché non so quello che metti buona quella scarica è stata buonissima va messa il cavaliere imperiale dall'altra parte ciò abbattetecelo vi prego abbattetecelo vai buono buono scarica tutto scarica al massimo vai vai un solo colpo siamo alla pari andiamo su the nilt dai il pecca qua no il pecca qua non lo voglio buttate giù buttatelo giù buttate buono buono buttate giù anche quest'altro e dai buttate giù giù mamma mia mamma mia come resistiamo mamma mia come resistiamo dai devi solo dare un colpo a quell'altra cazzo di torre un solo colpo e 14 secondi ce la fai sì su the nilt non è ancora finita non è ancora finita amore stai calmo stai calmo qua mi sta bombardando dai no 131 mamma mia salvato in calcio d'angolo mamma mia salvato in calcio d'angolo che ripresa che ripresa questa è una ripresione oi colpi o resistiamo oi colpi o resistiamo oi colpi o o mi date un colpo così almeno cioè facciamo la pari perché fermatelo sì sì lo sto fermando mi congratulo anche con questo mazzo è da migliorare da migliorare con l'isir tu stai leggendo io se la fai non mi ho perso è ohne bene ahahahahahhahahahahhaha ahahahhahahahaha ahahahahahahahahahahahaha